Buongiorno, siamo Gianmarco Patimo e Angela Satalino, consulente immobiliari Remax Stella Polare. Cosa ci mostri oggi Gianmarco? Stiamo per visionare un appartamento al primo piano a Corato in via generale dalla Chiesa. Prego, seguiteci. Prego, accomodatevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il nostro Trevani, 110 metri quadri a vostra disposizione, con esposizione est e ovest, un meraviglioso box e per vederlo Gianmarco? Chiamatevi, vi aspetto. A presto.